Tess ragazzi è stata rotta prima, però è stato un caso, cioè è andata bene che ho beccato il tizio che va alla mia stessa build, non so quante volte capiti, cioè preferiamo Tess o Nguyen? Questa è la domanda, perché a me Nguyen piace molto come eroe, è molto ludopatico, però secondo le statistiche ha 11.000 punti, il migliore eroe di questi qua è Tess, ma non troppo migliore di Nguyen, no invece sì, molto migliore di Nguyen, Nguyen secondo le stats è un baitone, oh secondo le stats è un mega bait Nguyen ragazzi, che vi devo dire? Ci fidiamo? Reno non è buono, è un tier 3 secondo le stats, però nel senso non ci sono tantissimi dati, hanno solo 9.700 partite come dati, non sono tante Questo che è Ozumat, la perdiamo sempre Ce ne facciamo una ragione, tra l'altro nella partita di prima, quella che avevamo vinto con Tess, no siamo andati Naga perché era una partita di 2-5 e 2-2, sì e poi dopo abbiamo trattato le Maracas Hai buone possibilità di vincere È rimasto addirittura all'uno, è stato old school Leggendaria, Zenuglia, grazie mie del terzo mese Bello questo Allora se io prendessi il musicista, turno dopo potrei livellare Un doppia canaglia Vabbè che qua io prendo fastidio bot e frizzonina nanna bot Ha senso avere questo che scala O prendo nanna nanna bot da solo, io prenderei nanna nanna bot da solo qua E mi sa che mi prendo il capitano a culo Musicista, vai Mi ha tibia, all'ultimo Ok Le danni Il pirata ragazzi può farmi prendere un taverna 3, se lo shop è brutto E lo shop è bello però Dammi una bella reward Vabbè Vabbè è sempre questo Se no ho l'assimo Potrei vendere questi due per prendere un pezzo Sapevo che mi si è ripentito di prendere sto pirata Secondo capitano a culo qua era gigante Uso l'HP D Ho un gold ragazzi, toccherà spenderlo Però se non lo spendo, turno dopo posso rollare a taverna 3 Che si fa? Taverna 2 D Vabbè meme Non si prende niente di questo A sto mondo potevo dare Potevo dare il Golda Bob Almeno mi faceva uscire dei pezzi più forti se gli lasciavo la mancia Probabilmente si sta a fare roll E provare a prendere un pezzo più forte di quei due bidoni Di taverna 1 Ok D'accordo Apportiamo qualche miglioria Sempre meglio avere qualche servitore Sì dovevo rollare ragazzi Perché la spawn mi faceva finirla questa Mi viene sempre in mente dopo l'illuminazione E boh sono pure rubati il buff Ah Ah Disastro Comunque ho scazzato ragazzi Devo far saltare questi due e prendere un pezzo Mi andava avanti qua Se trovavo la spawn finiva la quetta subito Questo è stato il miss play della partita Potevo fare il roll a 0 Vendevo loro E provavo a trovare un pezzo Dove si preso la tazza Poi pompavo loro due Però poi ne compravo un altro migliore di questi Magari no Puoi ribaltare la situazione Prendono altri schiaffi Anche questo è fortissimo Sei danni Ha la spawn lui Penso che si potrebbe rubare Per finirla questa Mi piace il 3-1 Non facciamo niente del 3-1 adesso Serve la spawn Lui aveva la spawn Con chi è coperso Vi faccio HP Vendo questo e questo Prendo spawn pirata Chiudo di questo Viscola questo Finisco la quest E E ho il gold Per spenderlo più tardi Secondo me È la giocata E si inizia a giocare La ruota di Yorg Il gioco più bello dell'estate Delle estate Vedrete che tra Porca miseria Mi sono scampato di male Tra un po' di anni ragazzi Tutto che l'hanno spikeball Ho poi riuscito a pareggiare Ma va bene Gira la ruota La battaglia In furia La fuori Questo è stato un bello shop Ma prima Questo che fa Wow Che sculatè Ma che sculatè Allora Io prima ho giocato con Zendis Ma che è sta cosa dorato Ora vi faccio una domanda Non se la facessimo al 6 Non ha senso Switchare questo Per il 4-4 Comunque A meno che Non vogliamo prendere L'accordo bot E giocare la scommettitrice Ah ragazzi Mi raccomando Se il video vi sta piacendo Like E se volete proprio esagerare Il commentino È il top Questo ci può stare No No aspetta No se faccio sta giocata Poi mi da tripla Lasciamo stare Tripla al 6 Boh Più che altro Al 5 cosa cerchiamo Cioè Il problema è di fare al 5 E se poi la missi Hai perso Comunque in generale Qua i migliori sono Rocciarock Into Le mentali rubati Di altri O comunque cosa al 6 È forte Fori hyper Che poi gli attacchi questo Probabilmente fori hyper È il più forte Da attaccargli poi Nilananabo triplato Vuoi ancora recuperare Ci sei nella cricca Burns Vero Che ci organizziamo Per spikeball Oh padre gino Fa regino Fa regino scolacchiato Qua Allora Wow 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 Questo che fa Qui c'ha le statistiche Tipo Un po' a tutto Fortissimo Vabbè In realtà la più forte Sono i biglietti di Sono i biglietti di biglietto Io prima ho beccato Bigolo Bigolo aveva due devia bot Che buona Le mentali della sorpresa qua È immondizia O prendo uter Le mentali della sorpresa È uno scudato Oddio Probabilmente questo è meglio Perché può essere una tripla Iniziamo a rollare Nice Perché non attacco Su un cazzo Non attacco Su niente Questo Lo gioco tempo Ovendo questo Oddio Potrei attaccarlo Su un devia bot Prendo due devia bot Faccio questo HP rubo devia bot E ci attacco questo Su devia bot C'è la devia bot bigolo Ah tra l'altro Sono pure buffati Questo mi tripla Qualunque cosa Mi piace Devo triplare Non loro Non loro però Non è ancora finito Non saprei cosa Ma non loro Ah qua si potrebbe Prendere il tripla Di devia bot Se volessimo Ci sarebbe pure il menace Per devia Le altre cose Per far sì che uno Refresci l'altro Le sconfitte che non ti uccidono Ti rendono più forte Questo cosa fa Prende direi Allora Via questo For iper Quante volte è uscito Baluardo Potrei prendere anche Uther A parte di tutto Potrei prendere anche Uther Però Perché Uther Tipo mette Devia 15 Ma credo che il for iper Sia più forte No Poi facciamo HP Prendiamo menas Triplare Devia bot Non so se ci stia E poi facciamo Ah se no È Uther su menas E lo si attacca A seconda devia Magari anche più forte Spostare Se no è for iper Ma for iper Con menas Non è bello Uther È tipo così Ma non so Non convido Se la play E poi ci sta Triplarlo No No Boh Mi fa impazzire Stuttura Puoi ancora Recuperare Allora Non lo so Cioè è stato grosso Qua rettare E uscire Devia Senza avremmo perso Quindi alla fine Magari è stato corretto La battaglia Sì Sì 7-10 No Tripa di Magmaloc Un altro elementare Che brutti discover Il Murloc Corale Si pompa Ma fa merda Secondo elementare Si può triplare Futuro Prossimo Non lo so Murloc Corale Boh Non c'è scomba Che dai Questi qua Ma brutto Vabbè Prendo questo Qua Direi che Si fa roll Draccai è forte Potrei prendere Il calcamaree Contro elemental È probabilmente Va preso Rollo per Bracccai Questo Quei Murloc Non va preso Qua tu non dici No dici Roll No Ma Croxiat Grazie mille Del diciottesimo mese 5-2 Oh Qua noi siamo Più forti Di lui E lo mandiamo A casino Allora Bisogna scurare Anche un po' Con sto gioco Da rubare C'è giusto il fiele Ci può interessare Il fiele Ma non fa molto E le triple Purtroppo Sono state Bruttissime I biglietti Questi sono No Belli i biglietti Più 6 Più 6 E questo E cosa ci sta Prendiamo il 5-5 Boh I di diabot Ci sta a pomparli Credo Tra l'altro Pompò pure questo Vabbè Vendo questo Roll Tripla Vado a saltare L'8-8 E il Murloc Io sono contro Mech Ci sta Una follia Un bait Potrebbe anche essere Un bait E basta Tripla E alla fine Cos'è che vogliamo Triplandoli Fa turno 11 Un amantide Vabbè Adesso va via Adesso va via Percussionista Sì Vai Non è che baluardo Ma Non lo so Ci va a prendere che baluardo Alla fine Effettivamente Cosa Dracari Questo Dracari Che è un bel pezzo Da rubare Sto andando bene Raga Allora Dracari Comba Con il Mech Quindi mi darà Quattro magnetismi Però a parte Quella non si ruba altro Cioè I 3-7 Non si rubano I tuoi servitori Hanno davvero Dato tutto Il tuo Ello E' stato Poi è stato In più Il magnetismo Allora Sì Lui aveva Esatto Solo Dracari Da rubare Quindi in realtà Qui cosa cerchiamo Magnetismi E poi prendiamo Dracari Eh sì Scompa con questo Non so se vogliamo Fare tipo gocce Per pompare di più Magmolo Visto che c'è Dracari Cioè alla fine Questo qua E' un Piotto Piotto Magmaloc Che è uno scudo Quindi ci può anche stare Non lo so Non lo so Forse è una cagata Lo facciamo Spendiamo Un gold Per dare Piotto Piotto Magmaloc C'è anche meglio Wow Ah cazzo Il bingo Vero Me lo stavo dimenticando Aprendo questo Bracari Raccari Cioè non credo Aveva senso Prendere un altro 10-13 Su cui dare modulo No Non ha senso Il modulo Però Su che si dà Si tiene il modulo Per me Questo turno Perché C'è Su chi lo Su di lui Devo far saltare Lo sto Magmaloc Davo un buff In più qui Wow Tripa di Wargir Allora Finiamo Finiamo Sto partito E poi Pensiamo Per bene Al bingo Ragazzi Abbiamo un altro Bel 100% Di win rate Perché lui È andato Scam contro Mech Scam contro Mech Non è mai Una grande idea Abbiamo trovato Un altro ciccionato Taverna 6 Adesso Prima rolliamo Allora Perché Altri biglietti Belli biglietti Dai Bella ice block Poi tornare Un servitore Non dratta Una tua mano Mi fornisce Più 2 Più 2 Mi riprendo Dracari Riesco a scombare Qualcosa Che magnetismi Tipo faccio Menas Gli do Automa Poi mi ritorno A menas In mano E lo riattacco Riesco a fare Automa Due volte qua Però non so Quanto sia forte Posso attaccare Un altro pezzo Ora Comincia ad avere Tutto più senso Comincia ad avere Tutto più senso 9 9 Se io gioco Questo Poi gioco Lui sopra Poi gioco Lui Per così O menas In meno Però do Molte più stats Qua Così ragazzi Adesso vi spiego Dovrebbe essere Dovrebbe essere forte Restrizioni di sicurezza Disattivate Attivazione Meccanismi di Mietitura Bello no? Oh Sì Potrei attaccare Anche l'altro Magnetismo Prima Hai ragione In questo caso C'è due menas Delirio Trovare i magnetismi Così Con l'HP E barare Beh Altri baffi I menas Li prendiamo E Sì Si prendono i menas Lui teoricamente Un altro turno Si potrebbe anche tenere E Poi dopo si chiuderà Con il liroi Credo Anche il murlock Branchia basso Che non è malvagio Non so quanto sia forte Fare il branchia basso Per evocarli liroi Cioè a parte i due menas Che ovviamente piglio Qua si potrebbe prendere Realmente tutto Devo un attimo Vedere lui Pare che è anche il Deviabot Questo qua è piccolino Due a murlock Potremmo quasi andare Scam Faccio tipo di Deviabot Unisco questo E Unisco quello E adesso vado scam Ragazzi Siccome ci sta qui E No Vabbè questo Allora Io sto turno Poi 27 38 Se ne va Turno dopo Sempre che Ci sia un turno Dopo Fallo 4 La data Benissimo Per noi Oh buono Branchia basso Ok Branchia basso Qua è il nut Bell trade Bell trade Sì Abbiamo parlato a casa No Per fight Giusto che sia Allora Se io do modulo For iper Riscrive carmi l'eroe Oddio che sta succedendo Oh cazzo Allora Questo qua sarebbe da far saltare Ragazzi Però Io dovrei iniziare a dare taunt Tipo alle branchia basse E i leroe Quindi Salta questo E Serve un altro branchia basso Off Strillatore Non serve Strillatore Ora in realtà Contro di lui Lui ha gli scudi divini Quindi servono gli scudi Da mettere a questo E a leroe E poi E poi chiudo tipo Con un'altra branchia Ed è questi qua Le tengo in mano Sì Quindi non verrò Gli scudi 11-11 di stats Non credo Valga Servono gli scudi qua Cioè mi sta Beitando in tutti i modi Però Non va presi Scudo Allora Questo qui E lui per primo Poi fuori Allora ragazzi Teoricamente La tripa di branchia basso Qua è devastante Ma È già stato devastante Il La mia Tauntata E quindi abbiamo vinto Dai Branca che Spona l'Iroi Ed è un altro Primo posto Tre primi posti Stasera Che delirio Sì dovevo cambiare Anche il potere Non ho fatto in tempo Ho ragionato un po' Su come batterlo Alla fine Serviva al giusto Perché poi magari In realtà Se lui Mi messe messo Dei branchia bassi Avere ancora L'HP di test Per rubare La tripa di branchia basso Sarebbe stato fortissimo Quindi me lo sono tenuto Anche per quel motivo lì Allora Saludate YouTube Che è stata Una bella partita ragazzi Test Due partite Due primi posti Direi che le statistiche Le statistiche sono attendibili Gran bel game Eh ma quanto sei lento Olè